Dato che abbiamo questi ospiti dall'Italia, è una cosa un po' così anomala perché non siamo abituati ad avere telecamere, ad avere presentatori così popolari qua in Canada che vengono proprio dall'Italia per intervistare noi. Quindi facciamo una cosa un po' insolita stasera, prima del ballo, dato che loro vogliono sapere che cosa faccio io, che cosa ho fatto, cosa faccio io, ecco, vedi, faccio ballare tutta sta gente. Vedi insolita, grazie, se volete fare l'applausione ci sono problemi, grazie. Poi dobbiamo dire che quest'anno è stato un anno particolarmente fortunato Paolo per me, a parte il fatto che mi sono sposato e lo sanno tutti, stiamo aspettando pure una bella bambina. Tra venti giorni arriverà una bambina. Poi c'è tanta gente, passami per favore alla coppa Dominic, c'è tanta gente che mi dice ma tu che cosa hai fatto, che mi hanno visto magari al Johnny Lombardi Song Festival, eccolo qua. Secondo posto con una bella canzone che abbiamo proposto qua a casa d'Italia tante volte, sono italiano, scritta musica e parole da me. E poi una cosa molto più importante, io sono arrivato un paio di settimane fa a Paolo dall'Italia, mi hanno conferito, prego prego Dominic, l'abbiamo aperto proprio stasera per il pubblico di Casaricca, mi hanno conferito questo, il disco d'oro per Cori Calabrisi. Quel disco che abbiamo fatto insieme possiamo dire che parla pure di questo posto, che parla di Casaricca, che parla di Liberata, di Alex, di tutti noi. L'abbiamo fatto insieme quel disco e allora questo disco d'oro ce lo meritiamo tutti, un bell'applauso pure a voi, ve lo autofate dall'applauso. E adesso signori e signori vi vorrei presentare questo ragazzo, io dico che è ragazzo, più o meno siamo della stessa età, ci vedete no? Questo ragazzo ha 30 anni di attività professionale nel campo dell'intrattenimento, facciamo un grande applauso a Paolo Marra. Paolo, vuoi dire qualche parola? Buonasera a tutti, io sono Paolo Marra, è l'operatore Maurizio Marrelli, veniamo dalla Calabria per realizzare 67 puntate di una trasmissione televisiva che si chiama We Paisa, la trasmissione andrà in onda su Video Calabria in televisione per quanto riguarda la zona della Calabria e della Sicilia. Se qualcuno volesse vederla qui in Canada, la può seguire su internet, sull'indirizzo www.videocalabria.com o .tv è praticamente una trasmissione dedicata agli emigrati della Calabria che sono venuti qui in Canada, siamo venuti praticamente a conoscere, cioè nel senso non ci facciamo i fatti nostri, vogliamo sapere un po' perché sono partiti, quello che hanno fatto, come hanno trascorso la loro vita e come continueranno a trascorrere qui in Canada. E' la prima volta che una televisione regionale avvia un progetto di questo genere perché per noi, essendo una televisione locale, anche se siamo la prima televisione in Calabria, dati Auditel e la quarta televisione in Italia, anche per noi non è stato facile realizzare questo tipo di progetto. Intanto sicuramente non ci saranno solo calabresi, per cui saluto tutti quanti, sia italiani che immagino ci saranno anche altre persone di altri posti del mondo, sicuramente in questa sala. Invito i calabresi, se qualcuno vuole mandare dei saluti ai parenti, agli amici che hanno giù in Calabria, ci possiamo spostare dall'altra parte e quindi registrare questi saluti che poi vedranno i vostri parenti nella nostra trasmissione che inizierà il 19 di novembre, tutti i giorni fino al 2 di febbraio. Sono circa due mesi e mezzo di trasmissioni che andranno in onda a partire dal 19 di febbraio.